Il 25 novembre 2016, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, nell'ambito della stazione di Piazza Verga, è stata inaugurata l'Aula per le Audizioni, che ha il compito di accogliere le donne vittime di violenza. Quest'Aula nasce da un'intesa stipulata tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la Sor Optimist International Italia. L'Aula per le Audizioni è stata progettata e realizzata ad hoc. Gli ambienti infatti sono caldi, accoglienti e rassicuranti. In quest'Aula infatti le vittime sono costrette a ripercorrere i fatti che gli hanno provocato la sofferenza e pertanto si cerca di renderla quanto più accogliente e rassicurante. L'Aula per le Audizioni, in questi quattro anni di attività, ha accolto circa 300 denunce di donne vittime di violenza di genere, quali atti persecutori, stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali. I Carabinieri del Comando Provinciale, sotto legita della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e del pool di magistrati specializzati nel cosiddetto Codice Rosso, hanno raggiunto eccezionali risultati sia in ambito di prevenzione, tutelando e salvaguardando le fasce deboli, sia in termini di repressione, dando esecuzione a diverse misure cautelari.